Ma il sole ce l'abbia di fronte eh? Ma ho visto che non... Non mi sembra che dia fastidio... Mi sembra? Tu quando mi fai le foto mi prendi sempre in mezzo? Io prendi in mezzo e prendi i laterali bene, per vedere dove stai esattamente. Allora tu devi sapere... Stai lì, stai lì! Tu devi sapere che ho letto alcuni libri? Allora non devi mai fare la foto centrale. Tu devi essere o a destra o a sinistra. Io te ne ho fatte sempre così eh? Adesso te ne ho fatto una a destra e una a sinistra. Quindi tu vedi di qua, vedi di là e tu sei lì in mezzo. Se tu prendi in mezzo non c'è niente. Questo l'ho letto nei libri eh? E poi in realtà... Dalla teoria alla pratica però ci si può provare eh? Cazzo non viene nessuno? Peccato! Ti volevo fotografare con uno... Ok? Ok! E io forse che il sole non abila... Non c'è la piatta... Ho paura che stai... Comunque... oh! Te ne puoi fare una anche qui eh? Fammene una anche qua... Voltata di là... Che dopo te lo rifaccio io... Sono due cose differenti... Ah ah! Va bene... Allora facciamo così... Lo facciamo... Stai fermo... Stai fermo... Guardami... La pose è diversa logicamente... Perché altrimenti... È sempre uguale... Ok... Te l'ho fatta anche sotto le palafitte qua... Bene... Eh? Mettiti qui... Sì... anche te... Allora... Se sono fortunato... Aspetta che te la faccio con la donna... Eh? Stai fermo... Stai fermo... Stai fermo lì... Che voglia? Due... Addirittura... Manco una... Siamo? Sì... 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 Ok... Sì... Ok... Sì... Ok... Sì... 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 Che non tiene... Eh... Guardi quanti fanno... In due... È 30... 30... 60... E guarda quanto dondola... È il doppio... Eh... Vabbè che passeremo una volta... Ma... Sono 120 kg... Dentro... Tu quanto pesi? 115... 115... Ah... Cazzo... Devi metterne 4... Eh... Fa la foto... Ce l'hai già messa via... Eh... Guarda... Questa fa la fotografia... Class... Cos'è quella roba nera? Oh... Mette troppo... Eh... Mette troppo... Sì... No... Maschini... Ma quando sei là in mezzo... No... 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 Che poi... Se fossimo di là... Se potessi andare là in mezzo... Oppure che là in mezzo... Ci va solo con le barche... Dovessi prendere una barca... Eh... Per me... Quelli sono lì... Aspettare... Sì... Questa è la vera Cambogia... Questa è la vera Cambogia... Renzo... Non ci si spiega... Non ci si spiega... Non ci si spiega... Mi raccogliono... Mi raccogliono tutto... Sì, se vogliamo fare un giro, sentiamo quanto voglio, no? In dollare, anche in real, ce li abbiamo, vedi anche lei che ci chiama, ti mandano a fare un giro, sentiamo quanto voglio, sentiamo, no, non un'ora, un'ora no, no, 10 minuti, no, mezz'ora, 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 5, mezz'ora vuole 5 dollari, 3 dollari, 3, no? 3 dollari, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ok? Aspetta qui un attimo, dai, fai glielo dire! Aspetta qui un attimo, dai, fai glielo dire! E' a fare un attimo, dai, fai glielo dire! Va bene!